Il gossip e le voci di una separazione li hanno travolti come una tempesta, ma Ilari Blasi e Francesco Totti non si sono scomposti più di tanto. Dopo la secca smentita dell'ex capitano della Roma, la loro vita di coppia prosegue serena e rilassata. Nel settimanale chi li ha paparazzati in un ristorante della capitale durante un tranquillo pranzo per due. Ilari sorride ai paparazzi, serena e disinvolta, vestita di nero e arancione. Francesco, poco amante dei flash, fa un'espressione da duro ma si lascia immortalare insieme alla moglie. I due pranzano insieme nel locale romano tra chiacchiere risate e poi salgono insieme in auto per dirigersi verso casa. Nel Totti Gate quindi si può tranquillamente chiudere con un letto fine.